... Va bene, allora, però Giuliano, soltanto una cosa, perché lei ha fatto un accenno poco fa al 41bis... Presidente, chiedo scusa, per la forma anche l'avvocato Maccarone si associa a quanto detto dai miei... Va bene, vediamo atta verbale. Allora, Giuliano, le stavo dicendo, lei ha fatto poco fa un accenno che è rimasto in sospeso sulla questione del regime 41bis. Mangano le disse qualcosa a proposito di questo regime del 41bis? Giuliano, mi ascolta, mi puoi ripetere la domanda per far... Allora, l'ho chiesto... Lei si è spiegato bene, che è il reggio avvocato, però sono io che vorrei capire meglio, cortesemente, grazie. Giuliano, mi ascolti, le ho chiesto se Mangano le disse qualcosa a proposito del regime del 41bis? E praticamente, una delle cose che mi disse, che si sperava che fosse abolito questo 41bis, che lui non riusciva a reggerlo. Ma le parlò di qualche cosa, di qualche iniziativa da parte sua? Mi ascolta, che era stato molto, ha vissuto una vita tra pagliate, carcerari... No, mi ascolti, mi ascolti, le disse Mangano di qualche iniziativa da parte sua, di altri, in relazione a questo problema del 41bis? Allora, in carcere, io, come dire, si sono parlate di tante cose, come fare in modo perché venisse abolito il carcere lucro, come fare intervenire perché non ci fossero pendimenti. Questo si è discusso. Soltanto questo. Va bene. Allora, vediamo se ci sono altre richieste di nessuna domanda. Allora, noi al momento possiamo chiudere qui... Presidente. Sì? Presidente. Avvocato Cianferoni, chi è? O Fiormonti? No, l'avvocato Fiormonti, Presidente. Avvocato Fiormonti, prego, avvocato. Sì, una domanda. Signor Giuliano, buongiorno. Buongiorno a lei, avvocato. Senta, tra i siciliani lei ha conosciuto un certo Angelo Sino? Angelo Rino? Sino. Potrassi di sì o di no, non mi ricordo adesso. Lo lega a nessun ricordo, a nessun episodio, questo nome, a nessuna persona. Potrassi che lo conosco come soprannome, lei mi dice il nome e cognome, non lo so. Ne ha sentito mai parlare di questo Sino? Attualmente non lo ricordo, sinceramente. Va bene, grazie. Grazie a lei, avvocato. E allora, altre domande? Sì, presenta. Dalla difesa Rina, avvocato Cianferoni. Prego, avvocato Cianferoni. Grazie, Presidente, buongiorno. Sì, signor Giuliano. Allora, desideravo sapere, innanzitutto, se lei ha mai avuto con il signor Rina un contatto diretto per parlare di qualche argomento specifico. Ha sentito? No, ho sentito la domanda. Ci siamo parlati, ma era un discorso molto fugace, veloce. in occasione alla villa di Nuvoletta Ambarana, in piena guerra con Cutolo. Scusi, lei si ricorda di essere stato sentito a Firenze dalla Corte d'Assise pochi mesi fa? Sì. Eh, abbiamo fatto queste domande, è uscito qualcosa per la Corte, dico, l'imputazione era quella per la strage del treno rapido 904. Sì. Sì. Ma, conoscenza con il signor Rina, lei l'ha partecipata, ha detto queste cose che sta dicendo oggi? Non ho capito, scusa. Allora, lei sta parlando quindi adesso di un incontro in una villa, di cui fino ad ora non aveva detto niente, perché stamattina lei ci ha parlato di aver incontrato Rina soltanto nelle discoteche, aveva detto. Eh, appunto. Adesso lei invece si sta dicendo, parlando di un incontro in una villa a Marano, se abbiamo capito bene. Bene, vuole spiegare un poco meglio questo episodio? Allora, se io devo spiegare tutta la storia, io sono un essere umano, non sono un, come dire, un extraterrestre, ho le mie misure, i miei punti, i miei limiti. Io ripeto e spero, come dire, ma questo, come dire, lo dico con la massima umiltà, io ho affrontato 4-500 processi, mi sfugge una parola. Sì, ma è assolutamente comprensibile, Giuliano, non è questo il problema, vorrei che lei però a questo punto chiarisse un po' meglio, scusi Giuliano, non raccavalliamo le voci se no non riusciamo, vorrei che a questo punto lei chiarisse un po' meglio questo episodio della villa di Marano che è rimasto in sospeso e che non abbiamo capito bene. Ma guarda, io infatti la villa di Marano, forse l'ho già accennata, è già detta a qualche procura italiana, non posso andare oltre perché è segreto distruttore, ok? Quindi io non posso, tenendo rispetto della DDA di un'altra città, svelare in questa occasione, almeno credo, quello che ho raccontato ad un altro magistrato della DDA. Così è, signor Giuliano. Signor Giuliano, dica. Abbiamo pazienza, ma se il signor Rina è detenuto dal gennaio 1993, le dico io, quale segreto istruttorio può descrivere a questa corte, su quale fatto? Sono passati 22 anni dall'arresto di Rina e siamo qua. Lei ha detto, ha conosciuto la DDA di Rina, io ho detto sì e abbiamo parlato dei nightclub, ok? Mi ha posto un'altra domanda. Ma per forza, perché se io devo... E ho risposto in piena guerra con Raffaele Cudolo, mafia, nuova famiglia, l'ho visto, incontrato a la villa dei Nuvoletto. E su questo, lei dice, c'è il segreto istruttorio. Io sulla vicenda del discoteco, preferisco usare questo termine italiano che ha usato il signor Presidente... No, discoteco, all'epoca non esistono discoteche, sto parlando di nightclub. Permetta, io per rispetto alla corte domande non ne pongo. Informo la corte, il signor Rina è stato assolto dalla corte di Assise di Firenze, dalla imputazione nell'ambito del processo per la quale il signor Giuliano è stato sentito mesi fa. E mi riservo la produzione anche di questa sentenza. Va bene, allora... E c'entra col contro i santi, Presidente. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, possiamo... La pubblica sera forse voleva fare un'altra domanda. Allora, diamo la parola. Un'unica domanda, Presidente. Voglio risalire, vediamo se il signor Giuliano... Scusi, Presidente, mi auguro che sia in riferimento alle domande fatte o dai difensori o dalla corte. C'è bisogno. No, 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 questo è l'esame del pubblico ministero. E l'esame del pubblico ministero, il codice prevede... Sì, Presidente, ma come domande nuove, perché... Il codice prevede... Allora noi deve dare la possibilità... Il quattrocento, se lo prendiamo, prevede la possibilità... Ma è chiaro, poi avrete la parola di nuovo. In ogni caso, questo è un principio generale, che in ogni caso l'ultima parola sempre alla difesa sarà data. E allora, prego. Signor Giuliano, quando lei conobbe, a metà degli anni settanta, per la prima volta Mangano con Guida, le fu presentato in qualche maniera? Ma la domanda mi pare che sia stata fatta. Io non vorrei... Non vorrei ricordare male, mi pare. Comunque, risponda. Mi fu presentato come mi fu presentato tante altre persone, che ne più ne meno. Perché a Milano io ci andavo spesso. Ecco. Che tipo di rapporto ha avuto a Milano con Mangano in quegli anni? No, me l'ha presentato e basta. Insomma, qualche volta ci hanno mangiato qualche cosa in ristorante, ma io ho frequentato l'annunzio Guida. Nessun'altra domanda, Presidente? Allora, difesa. Nessuna domanda? Dai siti esterni ci sono domande? Nessuna? Allora, fatta salva quella riserva che poi valuteremo in seguito, concludiamo qui l'esame di Giuliano. E allora possiamo interrompere il collegamento col sito riservato. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Buongiorno.